salve gente spero vada tutto bene voglio mostrarvi qualcosa che è ovvio e sono certo che molti di voi l'hanno già visto e questo è... voglio solo trasmettervi alcune evidenze che dimostrano che si tratta di immagini grafiche computerizzate per questo timelapse ok io non so se si registra a schermo pieno non lo so ora osservate le luci questo è prima di tutto la stazione spaziale impiega penso 90 minuti circa per girare attorno all'intero pianeta apparentemente quindi mi chiedo se questo timelapse sia stato fatto diciamo in 50 minuti dall'inizio alla fine osservate le luci non si vede alcuna singola luce tremolare che si accende o si spegne e non credo che queste siano luci singole o di un gruppo di luci oltre a vederli così brillanti ma voglio mostrarvi qualcosa di simile a questo si suppone che questo sia un timelapse il timelapse funziona quando si fissa una macchina fotografica si scattano immagini ad un certo intervallo quindi se questo richiede 15 minuti noi vedremo solo un paio di minuti perché si scattano fotografie diciamo ogni tre secondi o una ogni minuto o d'altro poi si mettono insieme e si ottiene un breve clip questo è come si dovrebbe vedere in un timelapse di una determinata area dove le luci si spengono o cambiano colorazione intendo dire come può essere che in questi 15 minuti attraverso l'intero pianeta non venga spento alcuna luce guardate qui oltre al fatto che le nuvole non si muovono i lampi che vediamo inoltre li vediamo dall'inizio alla fine i lampi iniziano e noi vediamo avete visto nel timelapse non si possono vedere questi lampi dall'inizio alla fine si dovrebbe vedere solo un istante quando l'ottiratore è aperto ecco ancora uno la stazione spaziale si muove ma non può essere in grado di avere questi scatti così chiari se si tiene l'ottiratore aperto per un lungo periodo ora vi voglio mostrare qualcosa qui questo è un timelapse fatto nella corea del sud si tratta di una piccola grandezza ma vedete quello quello che cerco di farvi capire quanti cambiamenti si vedono delle luci succede nel solo spazio di pochi minuti in una sola città quando si va ad ingrandire aprire vedete questo ci si aspetta che questo accada anche qui ma non succede da nessuna parte per niente queste sono sciocchezze complete questa è un'immagine grafica computerizzata e finta e non è nemmeno una buona finzione non è fatta bene perché guardate qui osservate il sole vedete il sole lo vedete così piccolo quando si trova sopra di voi no e se si trovasse a 93 mila miglia di distanza la forma la grandezza del sole non dovrebbe cambiare dalla vostra posizione ma dovrebbe rimanere sempre la stessa della stessa grandezza e se è così lontano lassù come possiamo vederlo così come lo vediamo qui questa è spazzatura completa lo sfondo si capisce che è solo sfondo che è stato messo lì e non so nemmeno che cosa significhi questo che ne so la cintura di vanalle alla fine dell'atmosfera eh sì e queste nuvole perché non si muovono mai perché non c'è nessuna luce che tremola e che cosa diciamo di questi temporali per quale motivo i temporali colpiscono sempre lo stesso punto per più volte come questo se guardate bene si vede sempre che colpisce lo stesso punto tuttavia questo sì questo è il mio parere e vedo il sole che sta rimpicciolendo là in fondo non lo so andiamo a vederlo nuovamente no 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 non è questo ma va bene così ok ora avete il punto questa è una completa finzione ci sono sempre persone che vanno a sparare qui sul loro sito ma gente andate là vi metto il link sia quello che sia questo è stato pubblicato dalla russia dalla rt e questi ci sono dentro questi ragazzi ed è da le menti lavorare insieme nel falsificare lo spazio ma questo non funziona per imbrogliare la gente intendo dire usare la politica ci vediamo ma questo non funziona per le menti lavorare insieme non funziona per il